Una ragazza fa ritorno nella sua città natale, basta questo a inclinare un equilibrio delicato fatto di storie nascoste e compromessi. Parte da un assunto relativamente semplice, la vicenda raccontata in avvenimento nella città di Goga, in scena allo stabile sloveno da domani, stasera l'anteprima per la stampa, fino al 28 febbraio. Scritto nel 1930 da Slauko Grum, medico ed esponente dell'espressionismo sloveno, con più di un legame con le tematiche care a Bertolt Brecht, lo spettacolo è diretto da Igor Pisone, e vede in scena due attori, Daniel Dan Malalan e Patrizia Iurincic, impegnati a sostenere più ruoli. Sul palcoscenico anche alcuni musicisti della Glasben Amatiza, che dunque offriranno una colonna sonora dal vivo. È infatti una cifra stilistica tipica di Pison, quella di concedere spazio anche alla musica, e ciò comporta per gli interpreti essere in grado di cantare e muovere qualche passo coreografico. Articolare sarà anche la disposizione del pubblico nella sala grande, che potrà assistere allo spettacolo da un punto di vista più alto. Contestualmente nell'attrio del teatro di Via Petronio è stata allestita una mostra in ricordo del costumista Igor Pajor, intitolata La bellezza salverà il mondo.